Tu ti mettevi con le corde e c'è una manovra dove facevi girare di senso la barca per farla tornare indietro. C'è la navigazione turistica dei navigli e lì l'hanno fatto vedere. È una procedura che è stata codificata già da Leonardo da Vinci. Non dico che l'ha inventata lui perché ci sono dubbi anche che si sia inventato varie cose. Però lui l'aveva vista.